I movimenti acrobatici, indestremati dagli sforzi, attività senza immaginazioni, si muoveva in modo individuo, mostrando le parti intime del codica, sembrano rimarcare il ritmo del cuore. E adesso passo a presentarvi questi ragazzi che sono alle mie spalle e che hanno il nome Arloss. Sono un lupo musicale, impegnato nel compito di ricercare e divulgare le tradizioni popolari del sud Italia sotto diversi punti di vista. Attorno a loro la gente si raccoglie, si conosce, si lascia contaminare da un'energia a cui non è necessario stare indifferente. Credo che la carta è scattata tra i padrini. Usate l'intuizione, no, ho dimenticato un altro espositore locale, Walter De Vincenzo, con artigianato antico e venuto. Grazie, ragazzi! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.